letture dai libri di platone dal fedone prima lettura la meditazione è liberazione dalle influenze corporee finché possediamo un corpo e la nostra anima fa un tutt'uno con quest'elemento noi non otterremo mai il possesso della verità esso ci impedisce la ricerca dell'essere per conoscere con chiarezza dobbiamo abbandonare il corpo e contemplare con la sola anima le cose in se stesse solo allora saremo come morti fuori della vita otterremo la saggezza la purificazione consiste nel separare più che si può l'anima dal corpo e nell'abituarla a riconvertirsi dagli influssi corporei educandola a concentrarsi da sola in se stessa liberata dal corpo come se fosse sciolta dalle cateni è questo il compito dei filosofi lo scioglimento e la separazione dell'anima dal corpo solo tramite la virtù della temperanza è possibile non farsi travolgere dalle passioni svalutandole onde tenerle sotto controllo solo a spalla a a a a a Grazie a tutti.